Oggi prepareremo la torta soffice al limone. Si prepara con 200 g di zucchero, questa naso di canna, un pizzico di sale, 16 g di lievito per dolci, una scorza di un limone, 120 ml di olio di semi, 3 uova medie, 250 g di farina e un succo di un limone. Dopo aver mescolato per 5 minuti aggiungere l'olio a filo. Dopo aver aggiunto l'olio di semi a filo andiamo ad aggiungere un pizzico di sale, la scorza del limone e il succo del limone. Adesso andiamo a setacciare la farina insieme al lievito. E dopo aver setacciato le polveri andiamo a unire un cucchiaio alla volta al composto. Adesso vado a imburrare una teglia con una noce di burro. Dopo aver imburrato e infarinato la teglia andiamo a versare il composto. A questo punto, dopo aver versato il composto, vado a mettere nel forno preriscaldato per 50 minuti a 170 gradi.